bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video che sono xyuder e ragazzi anche oggi tutte le notizie trovate nelle ultime 24 ore riguardanti fortnite nel video di oggi parleremo di alcune novità e di qualche spezzone video riguardanti il nuovo helic carrier che cavolo è l'helic carrier è la nuova navicella che sarà presente tra pochi giorni nei cieli di fortnite e che avrà delle belle sorprese vedremo anche però i nuovi poteri che stanno per arrivare parleremo del nuovo autobus di wolverine e di tanto altro prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e ora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è un'immagine che sta letteralmente facendo il giro di tutti i forum e su reddit è abbastanza impazzita credo comunque che sia un concept come vedete ragazzi un ombrello con lo stile galaxy effettivamente manca per completare tutto il set galaxy anche l'ombrellino dedicato non sappiamo ovviamente se questa idea se questa opzione possa realmente realizzarsi su fortnite ma devo dire che è veramente meraviglioso quindi spero che arrivi su fino al team di epic games e che possa essere inserito ufficialmente in game ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi e voglio informare tutti voi se avete un codice creator che da adesso è disponibile anche su rocket league e sì ragazzi oramai ha preso abbastanza piede anche il nuovo gioiello che ha deciso epic games di regalare gratuitamente a tutti e da qualche ora indicativamente dalle ultime ore di ieri pomeriggio sarà disponibile anche il codice creator appunto su rocket è lo stesso che abbiamo su fortnite quindi se scioppazzate anche lì mi raccomando chiuderone grazie mille ovviamente per il supporto andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché oggi è una grande giornata insieme alle sfide della settimana numero 6 sarà finalmente disponibile la skin di wolverine la stiamo un po aspettando tutti dall'inizio della season è la skin che si sblocca ovviamente completando alcune missioni due per la precisione la prima l'abbiamo fatta no la prima non l'abbiamo ancora fatta la prima è da fare ed è defeat wolverine dobbiamo ovviamente killarlo ora io mi viene in mente un dubbio se questa che mi sta facendo vedere è la scheda punti o è la scheda per sbloccarlo comunque ce ne sono due una è quella di killare una volta wolverine e la seconda è quella di fare danni con i propri poteri agli avversari completando queste sfide ovviamente otterrete in maniera completamente gratuita la sua skin e devo dire che è davvero molto molto bella come state vedendo in questa immagine vi ricordo anche che a livello 140 ma si ottiene nella colorazione argentata a livello 180 d'oro e a livello 220 olografica la più difficile perché il livello 220 è quello da raggiungere in questa season se volete ottenere tutti gli stili degli eroi marvel olografici e wolverine è proprio l'ultimo ed ecco qua ragazzi infatti che vi stavo facendo vedere alcune delle sfide dedicate ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ed è uno spezzone un video che vi comincio a far vedere mentre vi parlo sotto ragazzi il nuovo autobus il 2.0 come sappiamo ragazzi è in lavorazione nonostante ufficialmente non sia ancora presente nel laboratorio di tony stark nelle stark industries questo è l'autobus che sarà in game prestissimo si pensa addirittura dal 2 ottobre perché il 2 ottobre è l'ultimo giorno in cui vedremo l'autobus della battaglia con la colorazione del compleanno quindi davvero molto veloce quest'anno tutta la sessione del compleanno di fortnite quello che state vedendo in questo momento è proprio l'autobus che sarà presente chissà quando nel garage gigante delle stark industries giustamente noi ci chiediamo perché sarà così il bus della battaglia non lo sappiamo ma sappiamo che tony probabilmente sta cercando qualche modo per farlo funzionare in maniera un po diversa e forse quella di raggiungere altre dimensioni un po come ha fatto con i vari rift beacon i ricevitori che hanno portato nella mappa diverse porzioni di altre mappe da chissà dove ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ed è questa la novità per quanto riguarda la nuova elicarrier che arriverà nella nei cieli di fortnite sembrerebbe che a bordo di questa nuova gigante navicella spaziale arriverà un henchman quindi uno scagnozzo che ha come nome nei file di gioco shield e che sappiamo essere nella sottocartella dedicata appunto a questa elicarrier ieri vi avevo già fatto vedere alcune immagini oggi invece vi porto direttamente in uno spezzone video ed ecco qua ciò di cui vi sto parlando come vedete sponerà proprio nei cieli di fianco all'agenzia è assolutamente enorme e non è la stessa della prelobby anche se in realtà molto gli assomiglia non sappiamo perché come già vi anticipavo hanno deciso di metterne due di navicelle alcuni si dice possano essere separati mi spiego nella prelobby quindi nella fase della preparazione prima della battaglia reale ad un certo punto ci potrebbero essere 50 giocatori da una parte e 50 dall'altra sono semplicemente speculazioni quindi prendetele con le pinze e arriviamo all'ultimo argomento di oggi perché come vi anticipavo ragazzi ecco i nuovi poteri che stanno per arrivare fireball fire jump e dual pistol uno di questi già lo conosciamo se avete visto i miei video news mi riferisco ovviamente a dual pistol che sarà il potere di mystic quindi il primo potere mitico che in realtà sarà convertito in un'arma mystic impugnerà un doppio uzi che sparerà velocissimo anche se in realtà non farà proprio tantissimo danno mentre fireball e fire jump non abbiamo assolutamente idea a chi verranno attribuiti insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tanto per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate in live su twitch dalle 8 ciao ciao